Immaginate che esista un sistema come la Cina che controlla decine di migliaia di telecamere e nel frattempo trova in tempo reale delle telecamere che appaiono su una watch list, cioè su un elenco di facce da guardare e te lo dica in tempo reale sapendo quella persona dove è stata come se è mossa avanti e indietro. Pensate che tutto questo parta così perché serve per securitizzazione direbbe qualcuno per la sicurezza nazionale. La descrizione l'ho fatta io del sistema perché così almeno lascio Guido a dire no non è vero è molto più carino e coccolosa perché oggi parliamo di SARI, del sistema automatico real time di individuazione, in realtà di come si è pronunciato il garante su SARI, vi pronuncio dicendo di no. E una decisione Guido che sarà credo abbastanza controversa nelle prossime settimane, poi voi l'avete mandata di venerdì così almeno nel weekend non vi hanno rotto le scatole, vero? L'avete fatto apposta, di la verità. Giuro che è stato un caso, però sì, ci siamo fatti il weekend tranquilli. Allora io sono Matteo Flora, divulgo, faccio l'imprenditore e racconto cose online. Lui è Guido Scorza, avvocato e membro del collegio del garante. Questo invece, come tutti i lunedì, è Garantismi con la nuova puntata. Guido, ciao, buonanotte ormai, questa volta mi ha registrato tardissimo, perdonami. E buongiorno a tutti invece che nella finzione scenica, buongiorno. Tra l'altro, bellissimo perché la scorsa puntata ci facevano notare che avevamo iniziato con la luce ma finito col buio. Questa volta iniziamo direttamente col buio, per cui. Sari, allora, Sari da quello che mi ricordo io. Un sistema, il sistema di identificazione automatica dei foto segnalati, cioè di tutti quei volti che appaiono all'interno dell'elenco dei foto segnalati. Nato in una prima versione per controllare se effettivamente quella foto è riconoscibile, quella faccia è riconoscibile, anche solo da delle riprese, ma in occasione di un reato, quindi invece che andare a fare la foto segnalazione andando a vedere a manina bella tutte le facce, prendendo quelli che già conosciamo, di cui conosciamo la faccia e segnalandoli, nella nuova versione che doveva entrare in produzione, nel real time, in realtà, geolocalizzati in tempo reale, confrontati, ripresi con la banca dati in tempo reale, in quello che veniva chiamato Sari Real Time. Un'applicazione tutta italiana, fatta dalla Parsec 326 di Lecce, se non vado errato, se mi ricordo bene. C'è già, è già in produzione la parte non in tempo reale, vi si chiedeva, o siete entrati voi, il parere per tutto quello che arrivava con la parte di identità invece in tempo reale. Ci racconti un po' l'esegesi di questa vostra pronuncia? Certamente sì, il Sari Enterprise è il sistema oggi in uso presso il Ministero dell'Interno, quello di cui parli tu, quindi è un sistema di ausilio alla identificazione selettiva di una fotografia acquisita nel corso di un'attività investigativa, di un volto acquisito nel corso di un'attività investigativa, con un campione di volti già acquisito nel corso di precedenti attività investigativa. Il raffronto che fino a ieri e in buona parte ancora oggi viene fatto manualmente dal poliziotto, dall'investigatore tradotto in una dimensione digitale. Il garante sul Sari Enterprise si era già pronunciato in passato e aveva dato un parere favorevole al suo utilizzo, rilevendo che nella sostanza la digitalizzazione e l'informatizzazione di quella attività nulla cambiasse rispetto alle regole tradizionali di funzionamento di quel genere. Cioè, perdonami, da stupido, le foto c'erano già, già venivano viste, già venivano usate per quel modo, l'unica cosa che è stato fatto è stato velocizzare il sistema per fare in modo che fosse più preciso e per scopi, tra l'altro, di sicurezza più veloce nell'individuazione, corretto? Esatto, corretto, solo ed esclusivamente, peraltro, un sistema di ausilio. Cioè, poi, la decisione finale, questo corrisponde esattamente al signor Mario Rossi, sarebbe stata, viene comunque, assunta da un uomo in carne ed ossa, da un agente di polizia, dall'investigatore o da chi per lui. Il passo avanti, l'evoluzione del Sire Enterprise, è rappresentato, almeno dal punto di vista tecnologico, perché il sistema esiste, ma per utilizzare tutti, diciamo subito, che non era e non è in uso, non l'abbiamo stoppato noi, il Ministero dell'Interno ha chiesto a Noion parere sulla possibilità di utilizzarlo e noi abbiamo detto che non ci sono le condizioni per utilizzarlo e il Sire Real Time è esattamente quello che spiegavi tu, cioè un sistema che nasce con l'ambizione di poter essere facilmente dislocato ovunque sul territorio, quindi non è un sistema di controllo di un'area geografica determinata, di una location determinata, è un sistema che nasce con una vocazione alla mobilità, lo porto dove è necessario, in una piazza con una manifestazione, in uno stadio, lungo una strada, in tutti questi posti contemporaneamente, si pescano a strascico le immagini dei volti delle persone che in quel contesto si trovano e in tempo reale, come suggerisce il Real Time del titolo, in tempo reale si raffrontano quelle immagini con una, nella prospettazione che ce ne ha fatta il Ministero dell'Interno, con un campione fino a 10.000 immagini di soggetti, in quella che correttamente hai definito watch list. Il sistema matcha evidentemente i dati biometrici, le impronte biometriche estratte in tempo reale dai volti delle persone integrate, inquadrate, dove trova un raffronto, lo segnala all'operatore, e poi da lì naturalmente parte, riparte, un'attività investigativa ordinaria. Quello che noi abbiamo detto tecnicamente al Ministero dell'Interno è che l'utilizzo di questo strumento non è possibile in assenza di una norma di legge che non solo lo autorizzi, che non solo lo legittimi, ma che detti anche tutto quell'insieme di misure, di cautele che sono necessarie a bilanciare il legittimo, in presenza di una norma di legge, almeno oggi, perseguimento di un interesse di tutela della sicurezza nazionale, come l'altrettanto evidentemente legittimo e altrettanto importante diritto alla privacy, alla protezione dei dati di tutti i cittadini italiani. Quindi la ragione tecnica per la quale il provvedimento dice no è sostanzialmente questa. No perché non c'è una norma di legge che ti consenta di autorizzare quel sistema, perché naturalmente sarebbe democraticamente difficile sostenere che quel sistema venga utilizzato solo perché il soggetto pubblico, pur portatore di un legittimo interesse, quello della sicurezza nazionale e il Ministero dell'Interno decide di utilizzarlo, perché a fianco a quell'interesse ce ne sono altri che con quell'interesse vanno contemperati. A prescindere da questo dato, che è quello tecnico, ciò che in qualche modo anticipiamo nel parere e ciò che distingue il caso del Sari Real Times dal Sari Enterprise, oggi già utilizzato dal Ministero dell'Interno, è che di fatto il Sari Real Time segnerebbe, se utilizzato, un salto quantico da un processo, quello attuale, di investigazione e sorveglianza selettiva, ho un sospetto e verifico la fondatezza di quel sospetto. investigando su una persona e cerco di identificare quella persona con tutte le informazioni e con tutti gli strumenti in mio possesso, ad un sistema viceversa, ad un processo di sorveglianza di massa. pesco a strascico i volti di decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di cittadini e magari lì in mezzo, ma non lo sto cercando in maniera puntuale, è possibile come è possibile che no, e magari lì in mezzo c'è anche un criminale, c'è anche un delinquente, c'è anche domani un tifoso espulso dagli stadi o chi per lui. Quindi diciamo che nel parere naturalmente ci si ferma a dire che oggi non è possibile utilizzarlo perché manca una norma di legge, però si anticipa la circostanza che anche quella norma di legge, come dire, farebbe un po' fatica a tenere in piedi questo sistema, non sarebbe tecnicamente impossibile e in noi naturalmente è sulla soglia del, e su questa soglia e non su altre che come legante per la protezione dei dati personali dobbiamo in questo momento fermarci, però insomma ecco, certamente contemperare il perseguimento del diritto sacrosanto, la sicurezza nazionale con quello alla privacy, quando sulla bilancia devi mettere sorveglianza di massa versus ricerca di uno o forse nemmeno di uno delinquente o persona meno per bene delle altre, oggettivamente diventa difficile. Caso vuole che il provvedimento in questione, che il parere in questione incroci in qualche modo, almeno sul calendario, la strada del regolamento europeo. Fermati un attimo e parliamo dopo. Fermati un secondo perché voglio parlare. No, scusa. Un paio di cose fondamentali da un punto di vista tecnico. Misuse e abuse. Le due cose che fanno paura a tutte quelle realtà. Tra parentesi, lo dico, io sono uno dei cofondatori del centro Hermes Trasparenza e Diritti Umani Digitali, che si sta muovendo con una campagna in questo periodo che si chiama Reclaim Your Face, cioè riclama la tua faccia a livello europeo per il lobbismo per bloccare le tecniche di sorveglianza indiscriminata e astrascico. Quindi ve lo dico prima, io sono biased, questo per correttezza. Però le cose che fanno paura sono due. Misuse e abuse. Misuse, cioè utilizzato male o abusato. Utilizzato male significa che una volta che un sistema di questo tipo è in piedi, l'iter di autorizzazione per dire ormai abbiamo investito, ormai è già frando, lo usiamo anche per altro, è estremamente semplice. Anche per altro può essere da cose perfettamente legittime, vedere i cittadini, lo accennavi tu col Daspo, vedere i cittadini colpiti da Daspo, lo metto anche negli stadi per vedere se ci sono dei cittadini fatti da Daspo, già che guardo gli altri. Ma anche perché la creazione di un fingerprint di faccia, cioè come funziona quel sistema, prende guido che cammina per strada, in quel momento calcola una firma digitale della sua faccia, che è sempre guido, cioè la firma sarà più o meno identica, mutantis mutandis, domani mattina quando è in piazza di Spagna, domani pomeriggio quando entra dal garante, domenica prossima quando è allo stadio. Quindi quella firma non sappiamo se può essere poi abused, abusata. Abusata cosa significa? Che è una manomissione del sistema, volontaria o involontaria, come c'è stata con quasi tutti gli operatori telefonici in giro per l'Europa, in Grecia c'è stato il grande scandalo in cui una centralina è stata manipolata, in questo caso una manipolazione di questo tipo avrebbe il database di tutte le persone che si sono mosse, si sono mosse avanti e indietro in tempo reale per l'Italia. se dove eri, come e cosa hai fatto. Una sorveglianza a bassa scala su questo sarebbe un colpo letale alla sicurezza nazionale ad esempio, ma anche senza arrivare a quello. L'idea stessa che poi è possibile ampliarlo e capire ad esempio, beh intanto c'è una manifestazione, intanto facciamo un'altra cosa, memorizziamo per vedere eventualmente se ci sono scontri tufferugli, per fare in modo che a valle eventualmente siamo in grado di ritrovare quelle persone. Ecco, questi eventualmente sono proprio il principio che da un punto di vista giuridico invece lascio totalmente, ovviamente a guido, del... la nostra Costituzione dice che siamo innocenti fino a prova contraria, non colpevoli fino a prova contraria e quindi il fatto di iniziare a fare un database di quel tipo perché eventualmente io potrei delinquere o potrei aver commesso un delitto, non so il participio passato di delinquere, esatto, lascia perdere. Questa è una cosa molto 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 differente e dall'altra parte ovviamente l'informatico dentro di me ha paura dell'altro approccio, cioè di come può essere non usato bene, anche perché piena fiducia in realtà, davvero e non lo dico per scherzare, piena fiducia al Ministero degli Interni e persone che lo compongono adesso, ma un sistema del genere è pro futuro e non sai mai come può essere utilizzata una tecnologia di un certo tipo da qui ai prossimi 50 anni al prossimo secolo. Detto quello, sì, lo iniziavi ad accennare tu, non so se è stato coordinamento, fortuna, un po' di ambedue, no, totalmente un caso, del caso, arriva proprio, il provenimento arriva proprio nella scia, non tanto dei lavori europei per il bando o non bando delle tecnologie di controllo di sovriglianza di massa, quanto ancora che ha fatto più scalpore il leak del possibile testo in questo momento in preparazione. E i principi però, Guido, sono molto simili, anzi sono molto più cattivi dei vostri, ma sono molto simili, no? E ti rilascio, scusami, dire quello che volevi dire prima. Ma no, anzi, è utilissimo, è tutto quello che hai detto tu prima di aprire la pagina sull'adratto del regolamento, ammesso che sia proprio lui, aggiungo che è diciamo uno dei rischi lì sul tavolo a proposito del misuse o dell'abuse del sistema in questione, che in ogni caso, nel momento in cui ho identificato qualcuno che sta partecipando ad una manifestazione politica, per esempio, o che sta manifestando contro l'obbligo, un eventuale obbligo vaccinale, beh, io insomma, mentre andavo a caccia non è chiaro di che cosa, però ho raccolto un dato dal nostro punto di vista particolare, come la fede politica piuttosto che una convinzione politica specifica di quel soggetto. Quindi sono oggettivamente sistemi particolarmente pericolosi da usare con cautela, a cui, ma lo dicevi anche te prima, insomma, a tutte queste considerazioni si deve aggiungere, come si sta aggiungendo un po' in tutto il mondo, che in ogni caso questa tecnologia, anche dal punto di vista proprio della maturità, è ancora lontana dall'essere arrivata a uno stato, diciamo, sufficientemente affidabile, quindi a tutto quello che abbiamo detto sin qui ci sarebbe anche da aggiungere il fatto che non è neppure così scontato che quando un sistema di questo genere ritiene di aver identificato qualcuno lo abbia identificato sul serio e poi da lì in avanti una serie di altre considerazioni in relazione al fatto che questa approssimazione probabilmente non è uguale proprio per tutte le razze, ma per qualche razza è ancora meno precisa. Però diciamo stiamo ai fatti e stiamo al diritto e sicuramente appunto il calendario racconta che il prossimo 21 aprile, quindi tra un paio di giorni rispetto a chi ci seguirà oggi, tra un paio di giorni la Commissione europea annuncia la sua proposta di regolamentazione per un'intelligenza artificiale, diciamo così democraticamente sostenibile, un'eccezione culturale giuridica europea, un po' come è accaduto sul GDPR e dentro quel testo di regolamento, se il LIC che ci ha anticipato politico è corretto, c'è una norma che si riferisce proprio ai trattamenti da remoto di sorveglianza di massa attraverso dati biometrici e quella norma fissa un principio che non è lontano da quello che abbiamo applicato nel nostro parere al Ministero dell'Interno, cioè dice sono vietati by default, può derogarsi a questo divieto quando il sistema sia utilizzato per esigenza di sicurezza nazionale sotto l'ombrello di una idonea copertura normativa, quindi c'è un sostanziale allineamento… Sì, perché in realtà c'è il riferimento, se non mi ricordo male parla proprio di sicurezza pubblica, il caso di terrorismo e sicurezza pubblica, dietro attenta e rigida valutazione, corretto? Sì, richiede un processo di autorizzazione ad hoc, naturalmente quello è un regolamento, quindi è alto, parla di tutti i paesi membri e poi andrà all'atto nei singoli paesi, insomma nella sostanza è legittimo attendersi che da noi il punto di ricaduta sia, se ti chiami il Ministero dell'Interno non è che non lo puoi fare in senso assoluto, puoi farlo, hai bisogno di una norma esattamente come stiamo dicendo al Ministero dell'Interno e in quel regolamento si aggiunge anche che in ogni caso deve esistere una perimetrazione geografico temporale molto circoscritta all'utilizzo di queste soluzioni. Quindi a me sembra che la strada è sostanzialmente quella giusta, per noi dal punto di vista giuridico questa è l'ennesima applicazione di un principio al quale siamo da sempre particolarmente legati e cioè quello secondo il quale in democrazia i diritti diranni non esistono e quindi il diritto alla sicurezza, ammesso pure che vi sia un rapporto causa ed effetto tra l'utilizzo di questo sistema e l'incremento della sicurezza, ma il diritto alla sicurezza nazionale non può fagocitare nessun altro diritto, in questo caso non può fagocitare il diritto alla privacy. In democrazia un cittadino non deve scegliere tra essere o sentirsi più sicuro ed avere più o meno privacy, quindi quello che bisogna fare in questo contesto e in ogni altro contesto analogo è sempre cercare una posizione di bilanciamento tra i contrapposti diritti e interessi. Non dubito che in prospettiva con tecnologie che saranno sempre più mature questa posizione di equilibrio, se è possibile identificarla per adesso, almeno per quanto riguarda il Sari real time o il Parlamento identifica quella posizione o non se ne fa nulla. Tra l'altro non ne parliamo oggi perché oggi parliamo di Sari e va bene così, ma magari dedicheremo un po' di attenzione alla bozza, magari alla bozza finale una volta che esce di questo regolamento generale europeo, ma perché? Perché in realtà è molto interessante, perché parla non, per chi non l'avesse visto, non parla di riconoscimento facciale, parla di utilizzo dell'intelligenza artificiale in vari contesti e prende dei punti interessantissimi, cioè dice ad esempio che devono essere posto un bando sulle tecnologie che possono essere utilizzate per manipolare il comportamento, le opinioni o le decisioni dei cittadini e lì rientrano, i social network rientrano a mani basse con la profilazione eccetera, non solo, che devono essere sottoposte a ulteriori controlli, tutte quelle applicazioni che già eventualmente esistono che danno un punteggio sociale, il social score tipo cinese o la solvibilità credizia dei cittadini, cosa abbastanza ancora deregolamentata, in questo momento le centrali di rischio prendono un po' a mani basse un po' ovunque, stanno iniziando a vedere, ad esempio non può essere utilizzato per determinare o meno l'accesso all'istruzione, altra cosa fondamentale e l'altra cosa che mi è piaciuta è che viene dichiarato ovviamente che restano escluse dal regolamento le applicazioni militari perché non possono rientrare all'interno, ma restano esclusi i sistemi di reclutamento e i sistemi per la valutazione delle richieste di asilo e visti, banditi, e lì suppongo di sentire un po' le urla di dolore di varie parti, però per adesso direi che forse vale la pena di concentrarsi su una puntata dedicata un po' più avanti su questa parte, magari quando dicevo non c'è una bozza, quindi la battaglia, la tua non è una battaglia ovviamente perché tu sei super partes, però dal nostro punto di vista di Reclaim Your Face la battaglia è vinta ma la guerra è ancora lunga, cosa può succedere adesso a valle del vostro opinione? probabilmente ancora non direi nemmeno che la battaglia è vinta, cosa può succedere in relazione al sale real time? Può succedere solo ed esclusivamente, salvo pensare ipotesi fantascientifiche di un'impugnazione di quel parere, ma può succedere solo ed esclusivamente che governo e Parlamento decidano di intervenire per dare copertura normativa ad un'attività che oggi non ce l'ha. La battaglia non so quanto sia vinta perché il nostro naturalmente è un parere specifico che blocca l'utilizzo di un sistema altrettanto specifico, però si è parlato anche in settimana, è oggetto tra l'altro di un'altra nostra istruttoria che di soluzioni che rimbalzano anche dall'universo privato, nell'universo pubblico, penso a quelle di Clearview AI per esempio, ce ne sono tante in giro per il mondo, ce ne sono tante che approdano anche in Europa e certo non essendoci un ban assoluto di questo tipo di tecnologie, purtroppo nessuno può dire che domani mattina una qualche amministrazione da qualche parte d'Italia, come è già successo in passato, a fil bene o con le migliori intenzioni perlomeno decida di utilizzare qualcosa che non si chiamerà assai in real time, ma comunque si chiami di a corpo alla stessa soluzione e al tempo stesso alle stesse paure. Quindi c'è sicuramente ancora tantissimo da fare in questa direzione, possibile che quel draft di regolamento ci aiuti, detto che è un draft di regolamento che forse in settimana verrà proposto e annunciato per la prima volta e che poi avrà avanti a lui un percorso di mesi, mesi e mesi. Ti posso dire tecnicamente, perché l'ho utilizzato per mille ragioni per fare delle prove, che attualmente non è nemmeno così difficile svilupparlo, se non ti interessa il fatto di spedire dati dall'altra parte del mondo, c'è un sistema di Amazon che si chiama Recognition, scritto con la K, lo stesso che è stato utilizzato dalle forze di polizia in giro un po' per il mondo, prima che intervenisse un ban per le forze di polizia, che almeno fino a qualche anno fa, l'ultima volta che ho provato, consentiva di attaccare flussi video da qualunque telecamera in tempo reale e faceva già server based tutta la parte di validazione direttamente di facce da un database che tu gli davi direttamente come facce. Poche centinaia, l'ultima volta che ho controllato, poche centinaia di rideghe di codice, ti davano la possibilità di prendere un database di contenuti tipo, che ne so, le immagini di revenge porn e avere delle telecamere in giro per le piazze italiane che ti dicevano se quella persona era presente o meno all'interno di quelle facce, con ovviamente la paura, il terrore in realtà verticale di chi come me ci mette le mani tutti i giorni su queste cose, di capire come con davvero pochissimo sforzo è possibile creare l'inferno e con la certezza che se sono in grado di farlo io, è in grado di farlo qualche milione di persone al mondo e che se sono stato in grado di farlo io, probabilmente da qualche parte qualcuno lo sta già facendo. Non c'è dubbio purtroppo. Va bene, siamo a 26 minuti però li valeva dai questa volta. Grazie mille Guido per la chiacchierata, grazie mille per il lavoro fatto anche, stendi i ringraziamenti ovviamente a tutto il collegio perché lo sappiamo che tu in realtà l'unico tuo compito all'interno del collegio è venire qua a chiacchierare. A raccontarlo assolutamente. Non è vero, lo sto prendendo in giro, non è assolutamente vero. Grazie tante ancora, buona serata e ci vediamo con tutti voi. Buona serata a te, buona giornata e buona settimana a voi e ci vediamo con loro lunedì prossimo, corretto? Sarà fatto. Perfetto, vi dico, vi ricordo che Guido Governare il Futuro, su guidoscorza.it trovate tutto quello che vi interessa, anzi li vedete nella sigla, poi girati così alla rovescia come vi ho messi. Trovate tutti ogni giorno un contenuto sia di Vita del Garante che di Governare il Futuro, nel mio caso trovate il blog tutti i giorni. Grazie mille per averci ascoltato e a lunedì prossimo. Ciao! Grazie mille per averci ascoltato.